Buongiorno, sono Laura Antichi. Parleremo oggi di come fotografare in open sim. Questa attività del fotografare in open sim è un'esperienza davvero straordinaria e memorabile. Serve per documentare e immortalare momenti per pubblicare anche i risultati delle attività. Ci sono molti accorgimenti per fare fotografia artistica che sia in grado di generare quell'impatto emotivo dei contenuti che sono stati prodotti. La fotografia è storia di apprendimento nel quale i corti e gli oggetti si collocano in uno sfondo operativo. Il modo per poter fotografare è andare nel menu uno dei modi nel menu io e scatta foto. Si può anche utilizzare la tastiera CTRL maiuscolo più S. Oppure noi possiamo fotografare ricorrendo pure all'icona che troviamo in basso, vi mostro, della macchina fotografica. Questa è l'icona della macchina fotografica. Utilizziamo pure questa che è immediata. Che cosa vediamo qui? Che innanzitutto posso catturare i colori, la profondità e decidere anche la profondità 24 bit. Posso poi catturare l'interfaccia, il credito cyber però quello c'è già. Posso anche decidere di fare una foto dell'interfaccia per riprodurre in basso i comandi selezionando US. Posso catturare lo schermo tutto intero, poi vado in aggiornamento automatico. L'interessante è che si possono utilizzare i filtri bellissimi, che possono, che vanno dal bed trip, dal a fila, bellissimi filtri perché danno davvero il senso di quello che si è vissuto. Ad esempio il brown highlight è molto luminoso, comunque sono tutti da sperimentare per vedere quello che noi riteniamo di mettere in evidenza in questa in questa foto. Vedete abbiamo il faretto che mette in luce una parte soltanto, abbiamo anche insomma tutti quelli questi colori filtri che rendono ancora più straordinaria l'idea di fotografare in open scene. Anche questo della fila è molto significativo perché ti dà quasi una struttura base degli elementi che sono stati poi creati. Lascio nessun bel, possiamo mettere la blu light, questo che è molto luminoso, poi ti dice se vuoi salvare sul disco la finestra attuale oppure personalizzare le dimensioni della finestra da fotografare. Ti dà di default 1024 per 768, che può anche andare bene e poi ti dà la possibilità di decidere il format quindi png, jpeg o bma. poi dà la possibilità quindi di salvare di salvare con con nome e in questo caso io andrei a salvare salvando con nome sul mio pc nel formato che ho deciso ma mi dà anche la possibilità di selezionare dove salvare quindi io posso, come prima vi dicevo, a parte tutte le impostazioni generali che abbiamo già messo, salvare su disco, quindi sul nostro pc, salvare in inventario e ci salverà l'immagine, quindi come texture, caricare su flickr o inviare per mail. quindi noi prenderemo le nostre decisioni in base a quello che vogliamo fare. Nel nostro caso, quindi terminiamo qui questa prima parte che riguarda la fotografia, salveremo su disco e andrò a salvare proprio con nome, quindi salva con nome, darò un nome, quindi prova e andrò a salvare la mia immagine sul, nella cartella, cercando la cartella quindi appropriata, salva, quindi prova. Ok, quindi ho salvato sul disco, sono soddisfatta di quello che ho fatto e ho quindi immortalato un momento dell'attività didattica. Grazie. 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 Grazie.